In occasione delle celebrazioni dei 70 anni dell'Eccidio di Montalto, fino a sabato 22 marzo, Lampi di Tolentino ha in programma degli incontri con gli studenti delle scuole elementari medie e superiori di Tolentino e poi tante altre iniziative. Siamo stati con i ragazzi delle terze medie, come al solito, bellissima iniziativa con l'intervento di Aroldo che ha indossosmato i ragazzi, l'hanno veramente, come si può dire, una cosa è stata bellissima, punto. Aroldo Ragaini qui con noi, superstite di quei fatti tragici, qual è stata la cosa più importante emersa dagli incontri con gli studenti, in modo particolare con i ragazzi delle elementari? Mi ha fatto molto piacere incontrare questi bambini che sono stati entusiasti per le mie spiegazioni dirette e leali, perché ci ho fatto capire la differenza. E' una dittatura, è una democrazia e quando una persona interrogata, devi fare quello che ti dico io, bene, se non lo fai, cambi strada, vi piace questo o no? Quindi ci ho fatto capire che noi abbiamo vissuto dei momenti in una dittatura spietata e ci siamo rivoltati a queste cose, per quello che abbiamo finito per andare in montagna e combattere contro questi sopruse e questa vigliaccheria di dittatura. Il programma quest'anno è ricco di iniziative proprio per il settantesimo anniversario, un'altra ci sarà domani sera alla Collegiata di San Francesco. Sì, è una bellissima iniziativa di un coro maceratese, dove partecipano anche i nostri concittadini e invito la gente a partecipare. E poi le celebrazioni ufficiali si svolgeranno domenica prossima, 23 marzo, e partiranno come sempre con la tradizionale deposizione della Corona dall'Oro. Partiamo, ci ritroviamo in Piazza della Libertà dalle 9, 9 e mezzo, 9 e mezzo andiamo su al cimitero dove faremo la solida funzione religiosa e poi ritorniamo giù in piazza. Quest'anno con noi ci sarà Ugo Sposetti come oratore ufficiale. Ricordo che quest'anno è il settantesimo della liberazione. Come ambi noi ricordiamo il settantesimo in tre anni, che è importante. E la mattinata poi si concluderà con il solico viaggio con Tappa Caldarola. Sì, ci sarà un pulmo a disposizione per andare su a Caldarola.